Venere d'Italia, finale nazionale, ennesimo collegamento, chissà com'è che si sente la mia voce perché siamo in pieno risveglio muscolare, dobbiamo avere ancora il risveglio mentale e poi ci sarà anche naturalmente l'acqua gym e quant'altro non guardate mai, io vorrei uscire di campo e continuare a parlare perché... ...quindi la mattina inizia presto questo sì però le ragazze si completano le loro attività ancora a portamento ma è già tempo di passaggi giuria che seguiremo molto presto ...donc'è ancora una panoramica su di loro perché è molto... F.O.S. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti